Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina mi raccomando lasciate anche un like perché in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questo errore su Fall Guys riguardo al vcruntime140.dll errore e l'altro errore msvcp140.dll questi sono i due errori che vanno risolti in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina della Microsoft e qui voi dovete scaricare questo Visual C++ della Visual Studio 2015 quindi lo scaricate nome e file tutti e due questo è per 64 bit e questo per 32 bit però scaricateli tutti e due quindi fate avanti scarica una volta scaricati fate esegui come amministratore si accetto i termini e le condizioni di licenza installa allora a me dice questo perché io ho già un'installazione di Microsoft Visual C++ 2015 ok? già ce l'ho e quindi io faccio chiudi perché ho già questa versione quindi adesso elimino questa e poi andiamo sul sito dei dllfiles.com qui potete scaricare tutti i file mancanti dlll del vostro pc quindi che fate? cercate il vostro file come potete vedere qui possiamo è la stessa cosa quindi possiamo scaricare di nuovo Microsoft Visual C++ 2015 come potete vedere allora ok facciamo scarica è la stessa cosa quindi faccio accetto e mi installa e non posso installarlo perché a me giace ok? quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo su come risolvere questi due errori attraverso Microsoft Visual se non ce l'avete questa versione quindi installate quello Microsoft Visual C++ 2015 e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao